Salgono a 15 i contagi da coronavirus nell'Aretino, l'ultimo caso che è stato accertato oggi ad Arezzo in città riguardo una donna di 61 anni. La signora è la figlia della 92enne ricoverata ieri all'ospedale San Donato per aver contratto il virus. La donna, in attesa di ricevere l'esito del tampone, si trovava già in isolamento. Madre e figlia adesso sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Aretino. L'ultimo episodio dunque che si aggiunge agli altri 14 contagi da covid-19 già riscontrati. Tutti i pazienti si trovano attualmente o in isolamento domiciliare o nel reparto di malattie infettive. Da oggi infine si accorciano i tempi per individuare il contagio. I tamponi saranno infatti analizzati anche nei laboratori di microbiologia di Arezzo e Grosseto. Ci vorranno circa 5 ore dal momento del prelievo alla risposta. Sina ieri solamente le cliniche universitarie eseguivano le analisi sui tamponi relativi al coronavirus.